Buongiorno a tutti! Quest'oggi un nuovo tutorial che vi insegnerà a condividere un canale YouTube. Per prima cosa bisogna entrare nell'app, nell'applicazione di YouTube, e fare la ricerca del canale che si vuole condividere, cliccando sulla piccola lente che si trova in alto. Adesso inseriamo il nome, per esempio Michele Marmo violinista, jazz, e voilà, compare il canale. In alto sulla destra trovate tre puntini, cliccate sopra e subito si può condividere. Lui vi propone diverse applicazioni sulle quali condividere, Facebook, Messenger, Whatsapp, Telegram, lo si può inviare via mail, oppure si può fare addirittura la copia del link. Scegliamo per esempio Facebook. In alto compare la scritta Condividi su, con una freccia rivolta verso il basso. Clicco sulla freccia e do quattro opzioni. Condividi su Facebook, ovvero sul mio diario, sul diario di un contatto, quindi sul diario di un amico, in un gruppo, ovvero in un gruppo nel quale sono iscritto, sulla tua pagina, quindi in una pagina che sto gestendo. Scegliamo per esempio un gruppo e qua mi propone tutti i gruppi che io ho. Prendiamo per esempio Ritagli di tempo e voilà, posso condividere scrivendo qualcosa come lui mi sta proponendo. Dopodiché clicco su Pubblica e Les Jus en fait. Molto semplice. Grazie per l'attenzione e spero di essere stato utile. Buongiorno dal vostro Michele Marmo, violinista jazz, MMVJ. Grazie per l'internet.